40 milioni di euro distribuiti in tre anni e questa la cifa messa a disposizione dal Ministero per ciò che riguarda l'edilizia scolastica. Lo hanno reso noto il Presidente della Regione Mario Oliverio e l'Assessore alle Infrastrutture Nino De Gaetano in una conferenza stampa conclusasi qualche ora fa. Il bando è indirizzato a tutti quei comuni e province dove esistono degli edifici scolastici da dimodernare e la richiesta di intervento dovrà riguardare la messa in sicurezza dei locali, l'adeguamento antisismico, il risparmio energetico, la ristrutturazione e anche la manutenzione di un verde pubblico. Potranno essere presi in considerazione pure progetti di demolizione e ricostruzione di edifici non a norma. Il bando scadrà il 12 marzo e saranno finanziabili fino a 800 mila euro. È un inizio importante, tra l'altro sono 40 milioni e come hanno aggiunto i 16 milioni e 8 per quanto riguarda l'adeguamento antisismico che daranno la possibilità ai nostri comuni e alle nostre province di poter fare domande per adeguare le scuole, metterle in sicurezza, adeguarele al punto di vista tecnologico, delle fonti rinnovabili. È un piano molto importante che darà la possibilità ai comuni sotto i 10 mili abbedianti di fare una domanda, ai comuni superiori fare massimo tre domande e darà la possibilità di adeguare le nostre scuole, di iniziare un percorso importante che questo aggiunto Oliverio vuole fare per dare nei prossimi cinque anni adeguare le scuole della nostra regione che sono un punto fondamentale nel nostro programma. Riteniamo fondamentale questo per dare sicurezza ai nostri ragazzi che vanno a scuola, per dargli una tecnologia adeguata perché le scuole vanno adeguate al punto di vista tecnologico e per consentire di poter studiare nel miglior modo possibile, puntando molto sulla formazione per il riscatto della nostra regione. Per il Presidente Oliverio si tratta di provvedimenti importantissimi per la formazione e il diritto allo studio che passano attraverso la realizzazione di spazi adeguati in cui studiare. Con l'occasione effettueremo una ricognizione dello stato dell'edilizia scolastica nella regione, tenendo conto di tutti i cambiamenti avvenuti in questi anni.